Allora, seratona, mac e burger, vediamo un po' che abbiamo preso, vabbè, bevande varie, questo è tutto tè al limone, tè al limone e tè al limone, poi abbiamo preso, vediamo un po', nuggets normali, sì, altre nuggets normali del Burger King, perché sono in offerta queste, Poi, continuiamo, qua ci sono i panini e sono tre cigare royal per Alessio e Pietro, sono quelli con la cotoletta e l'insalata, ce ne sono tre, c'è di uno, due e tre, ale, poi, sempre nel burger abbiamo preso le patate, Yes, e ci sono, aspetta, 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 le patatine normali, eccole qua, e poi ho preso queste, che sono quelle con il cheddar e il bacon, mamma che buone, queste sono buonissime, sono più buone quelle del burger, rispetto a quelle del Mac, Dico, di questo tipo qua, eh, con cheddar e bacon, poi McDonald's, vediamo un po', dovrebbe esserci il Grinch, ma non lo so, no, 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 sì, sì, penso di sì, sì, non è Grinch, no, non è Grinch, ma che è uscito? è uscito comunque qua si è del Grinch è praticamente da appendere sull'albero di Natale Elena che bello non è del Grinch è del Grinch vabbè questo è il panino di Elena patatine di Elena è del Grinch? mamma ma che sto facendo? poi per ultimo ma non di importanza c'è il mio preferito è il McDonald abbiamo preso altre patatine perché abbiamo preso due menù uno a me e uno a Cristian e ci siamo presi il cosa si chiama? il Gran McChicken fammi vedere se ce l'hanno messo esatto un secondo solo ok vediamo 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 inquadrami un po' mentre mamma mia adoro questo panino mi piace troppo uno a me e uno a Cristian eccolo qua il Gran McChicken che poi di grande c'ha solo in realtà un po' il panino perché la cotoletta è uguale vabbè però ragazzi salutate aspetta i nuggets spicy eccoli qua sono i miei preferiti e poi due plane hamburger da questi da ex hamburger di un euro adesso un euro non ci stanno più il plane è arrivato a un euro e sessanta rendiamoci conto vabbè due di questi buona cena buono buono queste sono buonissime il pezzo forte è questo il Gran McChicken e poi la cosa che proprio mi fa impazzire dopo un mese e mezzo che non ce lo mangiamo la cosa che mi fa impazzire sono queste le nuggets spicy sono troppo troppo buone con la maionese buona cena buona cena